Il sito credo americano Uptrend ha lanciato un concorso per votare il miglior giornalista blockchain dell'anno. In realtà si tratta della quindicesima votazione su 21 del Blockchain Awards, perché ci sono anche altre categorie. Questa è la categoria del Best Blockchain Journalist, cioè il miglior giornalista blockchain del mondo. Ora come potete vedere si tratta di un sito ancora relativamente giovane perché ha solo 7188 iscritti e se andiamo a vedere i dati in effetti non è molto visitato, nel senso che ad aprile ha fatto il suo record storico con 270.000 visualizzazioni in un mese che poi non sono così tante. Sta di fatto che però a me risulterebbe in questo momento essere l'unico concorso esistente al mondo in cui si può votare il miglior giornalista blockchain del mondo. Ebbene i candidati a questo premio sono solamente 10 e guardate chi c'è ai primi due posti, Amelia Tomasicchio e io. Tra l'altro siamo anche gli unici due italiani in lista perché gli altri sono tutti di altri paesi. Ora io in realtà personalmente non sono propriamente un giornalista, per carità faccio lavoro giornalistico per il Cryptonomist, ma in realtà sono un divulgatore. Invece Amelia, che è il direttore del Cryptonomist, è veramente una giornalista. Oltretutto, questa è una classifica mondiale, però io personalmente scrivo solamente in lingua italiana. Certo, tutti i miei articoli pubblicati su Cryptonomist vengono tradotti in inglese dal Cryptonomist. Invece Amelia è conosciuta anche all'estero perché non solo sa parlare l'inglese, sa scrivere l'inglese, ma anche scritto per riviste, per giornali internazionali in passato. Quindi, se vi va di votare, io vi chiederei di dare il vostro voto a Amelia, quindi cliccando sulla prima opzione. Ricordatevi, per poter votare a questo concorso dovete essere registrati al sito. Poi, se volete, potete partecipare anche ad altre votazioni, perché, come vi ho detto, questa è solo la quindicesima su 21. 15 sono già state pubblicate, le altre 6 devono ancora essere pubblicate. Oltretutto, visto che siamo i due unici italiani esistenti, sarebbe bello se gli italiani votassero uno dei due, o me o Amelia, proprio per, diciamo così, tenere alta la bandiera dell'Italia, che solitamente, diciamcelo chiaramente, quando si tratta di innovazione è sempre un po' sotto parte, sotto traccia, mentre invece in questo caso specifico finalmente è rappresentata degnamente, perché, insomma, sì, è vero, ci sono anch'io, ma Amelia è davvero, molto probabilmente, in assoluto, comunque una delle migliori giornaliste che ci siano in questo settore, in tutto il mondo. Tra l'altro, quelli che vedete elencati sono i nomi dei profili Twitter, quindi se volete andare a vedere chi sono gli altri, basta che andiate a cercare su Twitter i vari profili e, ovviamente, li troverete tutti. Quindi, se vi va di votare, magari non votate per me, che non sono veramente un giornalista, votate però per Amelia, sia perché se lo merita, sia perché siamo italiani e quindi in questo modo, in qualche modo, stavolta potremmo tenere veramente alta la bandiera dell'Italia, anche in un settore globale e così tanto innovativo come quello della blockchain e delle criptovalute. Ovviamente, vi metto il link in descrizione per votare, ringrazio già in anticipo tutti quelli che andranno a votare e prometto che, nel caso in cui vada bene, farò poi un altro video con il quale vi dirò come è andata a finire. Un saluto, ciao!